Milano Pavia News edizione Pavia ben ritrovati a nuovo appuntamento con la nostra informazione andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario il maltempo fa ancora danni inoltre po' in particolare a Voghera in città ha chiuso il ponte di via Piacenza a scopo precauzionale in corso alcuni controlli su uno dei piloni della struttura a Pavia salta ancora il Consiglio Comunale troppe le assenze tra rifile del centro-destra chiesto una verifica di maggioranza la prossima seduta si terrà il 2 novembre la peste suina per le associazioni agricole o si riduce la zona di sorveglianza o si abbattono i capi di troppo prevedendo però indemnizi nel pavese settore ormai al collasso numeri positivi per la nuova stagione del Carbonetti di Broni il teatro che ha festeggiato i 10 anni della riapertura quasi raddoppiati gli abbonamenti dopo lo stop per il Covid il basket mercoledì torna la classicissima tra Vigevano e Treviglio una sfida che non si giocava da 14 anni il roster degli avversari è di grande livello coach Pansa chiede ai suoi la massima concentrazione questi titoli dunque del nostro sommario in apertura il maltempo con l'attenzione massima soprattutto inoltre po' dopo la piena dello staffora che ha creato diverse preoccupazioni soprattutto ha causato lo stop alla circolazione sul ponte di via Piacenza a Voghera ponte che è stato chiuso nelle scorse ore a scopo precauzionale hanno fatto sapere dal comune ma sul quale sono partiti alcuni controlli in particolare su una pilone ovviamente questo ha avuto una ripercussione anche sul traffico in città sentiamo il maltempo fa ancora danni stavolta a Voghera e in generale nell'oltrepo dopo le grandi piogge incominciate lunedì pomeriggio e la conseguente piena del torrente Staffora è stato chiuso alla circolazione il ponte di via Piacenza a Voghera al momento sono ancora in corso delle verifiche su tutti i ponti della città il pilone del viadotto sullo Staffora è finito sotto osservazione il ponte è quindi stato chiuso e transennato nella mattinata di martedì a scopo precauzionale al fine di permettere tutti i controlli la piena del fiume Staffora è incominciata lunedì pomeriggio il corso d'acqua è uscito dagli argini in alcuni punti senza fare troppi danni a quanto risulta al momento vigili del fuoco e protezione civile stanno tenendo comunque sotto osservazione il ponte nella zona di Bagnaria Ponte Nizza e Riva Nazzano la conseguenza è che tutta la viabilità a Voghera ha subito una pesante rivoluzione tutte le auto che vogliono uscire in direzione di Casteggio devono percorrere strada Grippina oppure la tangenziale o la strada provinciale 33 in direzione di Torrazza Coste il traffico risulta congestionato in particolare nella zona del Ponte Rosso dove si registrano anche lunghe code di automobili gli accumuli più rilevanti di pioggia nelle zone montuose secondo quanto reso noto da meteo a Casanova Staffora si sono avuti 220 mm di pioggia seguito da Pian del Poggio dove se ne sono abbattuti 184 a Romagnese si sono registrati 144 mm di pioggia 108 a Colle Ribrallo non sono stati però gli unici disagi che le incessanti pioggia hanno provocato lunedì sera sempre a Voghera è rimasto chiuso anche sotto passo di Via La Marmora per un principio di allagamento mentre il sotto passo di Via Oriolo è ancora chiuso in quanto allagato al momento sono ancora in corso le operazioni di pulizia al fine di renderlo agibile lunedì è stato chiuso per un paio d'ore anche il ponte alla frazione Oriolo poi è riaperto disagi per il maltempo anche nella circolazione sui treni sulla Milano Voghera ci sono stati rallentamenti fino a 60 minuti variazioni e cancellazioni di treni per un inconveniente tecnico sulla linea ferroviaria tra Pavia e San Martino a Pavia e in Lomellina la situazione è invece sotto controllo non c'è particolare preoccupazione per il ponte sul fiume Po a mezzanabigli che collega appunto la Lomellina all'oltre Po situazione tutto sommato tranquilla anche a Pavia dove il maltempo non ha fatto danni avete sentito come in Lomellina tutto sommato il maltempo non abbia causato grossi danni però soprattutto a Vigevano nelle campagne attorno alla città ci sono ancora i danni di quello che è stato il nubifragio del 26 agosto scorso e ci sono ancora diversi alberi e diverse zone da ripulire vediamo messa in sicurezza ancora precaria nelle zone della campagna di Vigevano dopo la tempesta del 26 agosto molti angoli della città mostrano ancora qualche graffio percorrendo la zona della Buccella e nel bosco del parco del Ticino ad esempio si possono incontrare pali della luce piegati e marci parti di sentieri ancora non percorribili alberi da rimuovere rami e segnali di legno a terra un albero era addirittura caduto da una sponda all'altra del canale artificiale che conduce alla centrale idroelettrica e si trova ancora nella medesima posizione a dimostrazione di quanto lavoro ci sia ancora da fare nell'area industriale della città invece in un parcheggio pubblico è stata posizionata una montagna di terriccio e alberi alcuni stalli non sono agibili per via del posizionamento degli arbusti da sottolineare il cattivo odore con cui i passanti devono fare i conti transitando in quella zona un odore causato dagli alberi che stanno marcendo anche a causa della continua pioggia delle ultime settimane in aperta campagna infine nell'area del gattile e del canile ci sono parecchi tronchi accanto alle strade questo costringe gli automobilisti a prestare maggiore attenzione soprattutto nelle zone in cui la sede stradale si restringe una soluzione secondo il movimento Vigevano prima di tutto potrebbe essere quella di coinvolgere i volontari per pulire le zone toccate pesantemente dal temporale di quel sabato di agosto così che automobilisti e cittadini possano continuare a visitare le suddette aree in sicurezza Passiamo alla politica adesso a Pavia salta ancora il Consiglio Comunale quello previsto per lunedì sera troppe defezioni tra i banchi del centro-destra con le opposizioni che hanno protestato è stata chiesta una verifica di maggioranza visti anche gli ultimi mal di pancia interni al centro-destra la seduta è stata poi riprogrammata per il 2 di novembre Le indiscrezioni della vigilia si sono trasformate in realtà al momento dell'appello soltanto 15 consiglieri comunali presenti e la seduta rinviata alla seconda convocazione di giovedì sera a Palazzo Mezza Barba uno scherzato di Halloween in leggero anticipo per sindaco e giunta troppe le defezioni tra gli scranni della maggioranza impegni di lavoro, malattia e qualche mal di pancia politico hanno reso impossibile l'avvio della seduta come spiegato anche dal Presidente del Consiglio Comunale Nicola Agnotta a margine dell'appello per motivi vari, alcuni per motivi di salute e altri per impegni personali non potevano essere presenti altri consiglieri hanno giustamente ritenuto magari stasera di non venire proprio perché non ci sarebbe stato il numero legale quindi tutto qua non sono tutti assenti perché malati Non era di certo assente per malattia Niccolò Fraschini della lista civica Pavia Prima nei giorni scorsi ha ufficializzato il suo malcontento nei confronti dell'amministrazione e la volontà di non votare la variante al PGT in discussione la prossima settimana ma non sarebbe il solo proprio in queste ore ha seguito dell'ennesimo consiglio saltato Fraschini ha chiesto inoltre un vertice di maggioranza nel frattempo come detto si avvicina passo spedito il documento del PGT un vero banco di prova per testare la tenuta dell'amministrazione la prima seduta dedicata alla variante al piano di governo del territorio è fissata per lunedì 6 novembre e già dall'appello si capirà molto della situazione all'interno del centro-destra Parliamo adesso di peste suina con le associazioni agricole che lanciano un nuovo grido d'allarme che chiedono soluzioni soprattutto indennizi per tutti quegli elevatori che stanno avendo enormi problemi ovviamente in questi mesi ci sono problemi anche per quanto riguarda la macellazione dei capi provenienti dalla provincia di Pavia è un altro tema che si aggiunge a legge a tante difficoltà delle ultime settimane O si riduce la zona di sorveglianza e protezione della peste suina che oggi comprende tutta la provincia di Pavia o si abbattono i capi di troppo prevedendo però indennizi sicuri per gli allevatori la richiesta delle associazioni agricole suona come un grido d'aiuto per il settore suinicolo pavese ormai al collasso nonostante le promesse e il via libera delle autorità sanitarie infatti i macelli cremonesi individuati dalla regione per la macellazione dei capi provenienti da Pavia hanno fatto dietro fronte a seguito delle pressioni dei trasformatori che non vogliono la carne proveniente dalla zona di sorveglianza per timore di incappare in blocchi delle esportazioni questo nonostante la carne dei maiali pavesi sia sana e certificata come tale a poco dunque sono valse le precauzioni per liberare la vendita dei quasi 150.000 maiali bloccati negli allevamenti pavesi fra le quali oltre alle certificazioni di salubrità anche il fatto che quella carne possa essere utilizzata soltanto per salumi cotti o crudi ma con una stagionatura minima di 400 giorni che annulla di fatto la possibilità di sopravvivenza del virus della PSA secondo le associazioni agricole andrebbero smaltiti urgentemente almeno 30.000 capi presenti in provincia diversamente gli allevamenti potrebbero finire a gambe all'aria di fronte alla mancanza di introiti e alle spese di mantenimento degli animali e delle strutture la riduzione della zona di sorveglianza in vigore almeno fino al 18 novembre potrà essere però decisa soltanto a livello europeo la speranza è che l'incontro previsto in commissione a Bruxelles lunedì prossimo riesca a sbloccare una situazione paradossale che rischia di provocare danni fino a 100 milioni di euro e di mettere al tappeto molti dei 65 allevamenti pavesi lasciando senza lavoro centinaia di addetti Cambiamo decisamente argomento adesso torniamo a Pavia per un bel progetto che riguarda i ragazzi delle scuole gli studenti dai 9 ai 12 anni di età per sensibilizzarli sui problemi legati alle malattie rare Sensibilizzare i giovani sul delicato tema delle malattie rare è l'obiettivo del progetto che riguarda gli studenti tra i 9 e i 12 anni d'età portato avanti dalle associazioni un'iniziativa che si sviluppa attraverso l'utilizzo di un libro nelle scuole la volontà ad informare i ragazzi delle primarie non solo verso il tema dell'inclusione sociale nei confronti dei soggetti più fragili e nel caso specifico di quelli affetti da patologie rare La riflessione è scociata nella pubblicazione di un libro che racconta appunto una storia di Coralini che alla fine lo invita a uscire dalla propria bolla al non sentirsi soli Questo progetto si è poi arricchito perché da uno strumento rivolto magari ai bimbi tra i 9 e 12 anni come fascia di riferimento affetti da questa patologia a tutti i loro coetanei perché ci siamo resi conto che poteva essere questo libro un piccolo seme di inclusione sociale da seminare all'interno delle classi nell'aiutare tutti tramite dinamiche, attività di laboratorio a sentirsi un po' meno soli e raccogliere gli altri a prescindere dalla loro condizione Non si tratta di un tema semplice da affrontare il mondo giovanile presenta numerose sfaccettature e debolezze che spesso sfociano in fenomeni di bullismo per questo è fondamentale educare i ragazzi fino dall'età scolastica a livello nazionale sono circa 2 milioni le persone affette da almeno una patologia rara mentre in Lombardia sono 100.000 numeri che non possono essere ignorati in una recente visita a Pavia l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso ha annunciato la volontà di implementare il servizio sanitario anche in relazione al problema delle malattie rare Da questo sono andate quindi alcuni progetti stiamo avviando una fase pilota in alcune scuole in Lombardia, in Piemonte, anche in Emilia Romagna per provare anche con l'aiuto della scuola e degli insegnanti, degli dirigenti scolastici a provare un pochino a parlare della patologia di questa storia e dei temi dell'inclusione sociale Sicuramente è un piccolo sene che dobbiamo tutti coltivare nel nostro piccolo e nel nostro quotidiano ma sicuramente è un'esperienza positiva una storia che aiuta tutti a sentirsi meno soli Dall'8 dicembre ci sarà una piccola rivoluzione oddio forse tanto piccola non lo è per il mondo del vino che riguarda le etichette che verranno poste sulle bottiglie etichette che dovranno indicare anche gli ingredienti contenuti e l'apporto energetico appunto del vino che si andrà a bere una scelta che non piace per così dire a tanti produttori che sono preoccupati anche per le ricadute economiche di una decisione di questo tipo Ingredienti sì, ingredienti no La diatriba fra Europa e paesi produttori di vino sull'aggiornamento delle etichette è arrivata ad un punto fermo dall'8 dicembre si cambia e sarà obbligatorio indicare oltre all'apporto calorico tutti gli ingredienti contenuti oltre ad acqua e alcol derivati dalla fermentazione naturale dell'uva come per esempio lieviti, tannini o altri composti la nuova direttiva è stata accolta con perplessità quando non malumore da molti produttori per una serie di ragioni fra cui l'aumento dei costi per l'adeguamento delle etichette e l'incognita sulle reazioni dei consumatori si discute inoltre sul tipo di informazioni che andranno indicate obbligatoriamente sull'etichetta fisica posta sulla bottiglia e quelle che potranno essere scritte in quella elettronica a cui si può accedere tramite QR code questa nuova etichettatura è sicuramente interessante e sicuramente importante il problema è l'applicazione purtroppo nel mondo del vino ci sono una serie di ingredienti che non sono dannosi per il consumatore ma sono utili per poter ottenere il prodotto finale il problema è che cambiano di volta in volta a seconda di come è andata la vendemmia quest'anno l'anno e quindi com'è di conseguenza il vino che deve essere trattato con prodotti differenti questo crea un problema un problema perché dovresti cambiare tutti gli anni l'etichetta e sicuramente ha un'incidenza di costo che purtroppo finisce sempre sul consumatore quindi è proprio un problema tecnico che si può risolvere con le nuove tecnologie quindi grazie ai QR code e la possibilità di andare online però c'è sempre il problema che ogni lotto è differente partiranno nei prossimi mesi i lavori per realizzare il centro polifunzionale al campo sportivo di Gravellona Lomellina il comune punta a terminare il cantiere chiudere il cantiere entro appunto il 2024 tra l'altro i costi sono aumentati come sappiamo per l'aumento dei prezzi proprio delle materie prime ma il comune sta già lavorando a una soluzione sentiamo partiranno nel 2024 i lavori per realizzare la Clubhouse la struttura polifunzionale al campo sportivo di Gravellona Lomellina la conferma è arrivata dal sindaco Luciano Garza che ha fatto il punto su un'opera prevista già ai tempi della precedente amministrazione guidata da Francesco Ratti è rimasta incompiuta per problemi con la ditta che aveva vinto l'appalto e con la quale a luglio è stato poi risolto il contratto il progetto era infatti partito prima della pandemia inizialmente il comune aveva messo in preventivo circa 200.000 euro ma ora i lavori a causa dell'inflazione e del rincaro delle materie prime costeranno di più si stima sui 110.000 euro aggiuntivi soldi che saranno finanziati da risorse di amministrazione l'obiettivo è realizzare un locale multiuso che ospiti le squadre di calcio prima e dopo le partite casalinghe della Gravellonese con tanto di punto di ristoro l'intenzione del comune di Gravellona è quella di completare la Clubhouse entro la prima metà del 2024 ma per ora si viaggia ancora in ritardo l'appalto è stato intanto riaffidato alla seconda impresa classificata al momento sono state realizzate soltanto le fondamente e le mura perimetrali ma mancano ancora la copertura e tutti gli impianti interni dell'edificio il cantiere ripartirà quindi dal tetto una volta realizzato ci si potrà concentrare su tutto il resto compreso una nuova recinzione bisognerà però ancora attendere ci sarà tempo invece fino al 17 novembre per presentare la domanda per il bonus nidi gratis in Lombardia lo sappiamo è una misura dedicata a quelle famiglie cosiddette fragili per avere un aiuto economico appunto per poter iscrivere i propri bimbi all'asilo nido ci sono alcune novità che ci spiega nel servizio Mario Fortunato una misura pensata per venire incontro alle famiglie e le loro difficoltà economiche è stato rinnovato anche per l'anno scolastico 2023-2024 il bonus nidi gratis erogato da Regione Lombardia è attivo anche nel capoluogo uno strumento a sostegno dei nuclei familiari per facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia il bonus andrà a coprire la quota di retta mensile che supera la soglia rimborsata dal bonus asili IMS pari a 272 euro ciò significa che ciascuna famiglia per ottenere l'azzeramento della retta dovrà avere anche il bonus IMS l'aiuto economico è destinato ai nuclei familiari che rispettano alcuni requisiti innanzitutto sostenere una retta mensile superiore all'importo rimborsabile dal bonus asili IMS in secondo luogo avere figli d'età compresa tra 0 e 3 anni iscritti a strutture nido e micronido pubbliche o private e infine possedere un ISEE inferiore uguale a 20.000 euro la domanda dovrà essere presentata online attraverso il sistema informativo Bandi entro mezzogiorno del 17 novembre parliamo d'altro ci spostiamo adesso a Broni con il Teatro Carbonetti che sta macinando numeri veramente importanti con un raddoppio praticamente degli abbonamenti dall'ultima stagione quella prima della pandemia e con una serie di appuntamenti oltre a quelli già andati praticamente sold out che stanno riscuotendo un grande successo di pubblico vediamo numeri positivi per la nuova stagione del Carbonetti di Broni il teatro che a settembre ha festeggiato i 10 anni dalla riapertura quasi raddoppiati i 90 abbonamenti dell'ultima stagione precedente alla pandemia il 2019 con circa metà dei posti disponibili in platea già assegnati due eventi già andati in scena il concerto di Fabio Concato e lo spettacolo Up and Down di Paolo Ruffini hanno fatto registrare il tutto esaurito sold out anche quello in programma il 21 dicembre con Vanessa Incontrada mentre il prossimo appuntamento il 18 novembre è dedicato a un grande classico della musica con la Carmen interpretata da Marina Mariotti dopo 10 anni di attività il teatro ha visto anche una serie di lavori di manutenzione per un investimento da parte del comune di circa 60 mila euro destinati all'illuminazione della sala e di scena al ripristino degli impianti termici alla tinteggiatura degli interni siamo davvero soddisfatti per l'avvio di questa nuova stagione quest'anno è il record assoluto per la vendita degli abbonamenti questo significa che la proposta del teatro Carbonetti è una proposta sicuramente interessante e che un altro dato significativo è che sempre più persone da fuori Broni anche da fuori provincia frequentano il nostro teatro quindi prendono l'abbonamento e seguono la nostra stagione teatrale questo significa che il teatro Carbonetti sta diventando sempre di più un luogo, un centro culturale di interesse anche sovracomunale l'amministrazione comunale crede fortemente nel teatro Carbonetti e proprio quest'anno abbiamo pensato di avviare degli interventi diciamo straordinari anche del teatro Carbonetti perché sono dieci anni di attività ed è ora di fare anche degli interventi di sistemazione insomma del teatro e a questo proposito abbiamo deciso di investire anche delle risorse Chiudiamo con lo sport il basket con Vigevano che si prepara ad affrontare Treviglio gara che si terrà il primo di novembre alle 18 ovviamente al Palai la Kemba una classicissima che non si vedeva da anni da circa 14 anni appunto che si attende al ritorno di questa sfida c'è un roster d'eccezione quello appunto di Treviglio ma Coach Pansa ha chiesto ai suoi ragazzi massima attenzione massima concentrazione È stata una classicissima del basket Lombardo negli anni 90 e 2000 ma non si è più disputata dal 2009 stiamo parlando della sfida tra Vigevano e Treviglio che torna il primo novembre alle 18 al Palai e la chiama a distanza di 14 anni dall'ultimo incontro Il roster degli ospiti è di quelli che fa tremare le gambe in cabina di regia c'è Luca Vitali 149 presenze in nazionale Brian Sacchetti uno dei trascinatori dello scudetto vinto da Sassari nel 2015 non è nemmeno in quintetto base una squadra di stelle con il centro americano Packer e la guardia Miasci come migliori realizzatori dove troviamo anche Marco Giuri campione d'Italia nel 2019 con Venezia ed ex di giornata avendo giocato a Vigevano nel lontano 2006-2007 Capitan Rossi in ogni caso non si impressiona sarà un'altra battaglia sportiva che giocheremo in casa e dove vogliamo fare bene ha dichiarato la vigilia dobbiamo porre il focus su noi stessi ammonisce Coach Pansa giocare dal punto di vista dell'intensità la medesima partita vista a Torino trovare la chiave per non farci portare in giro dei loro lunghi i quali possiedono bidimensionalità e aprono molto bene il campo nel prepartita gli atleti dell'Aila che riceveranno la visita dei pazienti del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico San Matteo seguiti dalla Onlus Sole Terre con i quali giocheranno e faranno merenda sugli spalti inoltre è attesa la presenza di tanti giovanissimi per questa partita infatti gli alunni della scuola elementare Ramella e i loro genitori potranno entrare con un biglietto dal prezzo simbolico grazie alla collaborazione tra l'istituto comprensivo e la palacanestro Vigevano abbiamo invitato i più di 400 ragazzi a vedere la nostra partita a un prezzo simbolico di un euro in modo che inizino a masticare a prendere dimestichezza con la palacanestro e speriamo che molti di loro si appassionino e sia un'occasione anche per abbracciare i valori della nostra società e i valori del nostro bellissimo sport abbiamo chiesto alla palacanestro Vigevano di venire a dare qualche lezione a dare qualche momento di sport appunto ai nostri alunni della scuola primaria della scuola primaria Ramella hanno accettato di buon grado e per noi è stata una collaborazione particolarmente efficace i bambini sono rimasti entusiasti e sicuramente si è creata con la collaborazione tra scuola e associazioni o enti del territorio che a mio parere è essenziale per costruire una scuola di qualità Era l'ultimo servizio è tutto per questa edizione del nostro telegiornale come sempre grazie per essere stati con noi e un buon proseguimento con i nostri programmi Grazie a tutti